Musica Benvenuti oggi, il 14 ottobre. Si festeggia San Callisto. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo l'attore Roger Moore. Ed ora, passiamo all'oroscopo. Ariete, a volte pretendi troppo, devi cercare di non importi in maniera esagerata. Si può iniziare un nuovo progetto, è importante risvegliare la tua voglia di stare con gli altri. Non devi strapazzarti troppo. Toro, una situazione ancora un po' strana per i soldi. Evidentemente dopo l'estate ne sono usciti parecchi per la casa. Non è un periodo di grandi novità, ma si possono fare progetti per il prossimo anno, che sarà eccellente. Gemelli Se possibile cerca di chiarire quello che non va. Più che l'amore in questi giorni preoccupa il lavoro e le relazioni con gli altri. Per chi ha iniziato un progetto è possibile andare avanti, ma attenzione agli investimenti azzardati. Cancro Se devi parlare d'amore o comunque ti interessa vivere una giornata particolare, cerca di fissare un appuntamento con chi ti piace per domani. Sul lavoro potresti fare qualcosa in più nel corso dei prossimi giorni. Un incontro potrebbe essere risolutivo. Leone Giornata importante Se c'è una persona che ti piace potresti definire qualcosa di più importante dopo la metà del mese. Chi è chiuso una storia o è separato adesso trova la forza di ricominciare altrove. I progetti da qui a fine anno sono valorizzati. Qualcuno potrebbe aver iniziato ad agosto un grande recupero personale e professionale. Vergine Oggi è possibile ingigantire un problema per colpa della stanchezza. Qualcosa non va. Se ti interessa concludere un affare, devi essere tu il primo a portarlo avanti. Giornata un po' stancante. Bilancia Anche oggi la vita sentimentale può essere rafforzata. Contatti fortunati Le sensazioni che nascono adesso sono positive, ma non rimandare a domani ciò di cui puoi discutere oggi. Attenzione sul lavoro e ai problemi che possono nascere per motivi banali. Si possono fare incontri interessanti. Scorpione Recupero importante in amore. Addirittura entro tre giorni qualcuno potrà avere una bella risposta o ricompensa. Le storie d'amore finite non possono recuperare facilmente, ma è probabile che ci siano nuovi incontri emozionanti. Non è escluso che arrivi una proposta di lavoro che dà speranze. Sagittario Evita le complicazioni. Una persona del passato potrebbe infastidire. Oggi sarebbe meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Non sarà facile ma è opportuno. Evita scontri diretti. Sul lavoro, nonostante la situazione sia in crescita, non bisogna dare spazio alle novità che non sono interessanti. Capricorno C'è da affrontare una questione spinosa anche con parenti. Cerca di concludere tutto entro oggi. È ancora una giornata interessante, ma domani si registra un lieve calo. I nuovi progetti sono favoriti e qualcuno potrebbe rilanciare la propria attività. C'è persino chi sta pensando a un trasferimento entro l'anno prossimo. Acquario Giornata molto interessante. Se ci sono problemi, questo è il momento per affrontarli. L'amore può riscattare le emozioni negative vissute nel corso delle ultime settimane. Bisogna stare attenti ai contratti. Se qualcosa non va, è meglio evitare di firmare. C'è da rivedere un rapporto lavorativo. Pesci Qualcuno sta cambiando lavoro oppure ha iniziato un percorso altrove. Tutto questo costa parecchia fatica che si riversa nella coppia. I nuovi amori stentano a decollare. Sul lavoro cerca di risolvere un problema più presto. Incontri utili per trovare una mediazione. Proverbio del giorno. Con i finti tonti controllate sempre i conti. Questo è tutto per oggi. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.